buonasera a tutti buonasera a tutti siamo in diretta questa sera come al posto del webinar abbiamo stiamo provando a fare la diretta facebook ho deciso di connettermi due minuti prima per dare il tempo alle persone di connettersi visto che questo appunto sostituisce il webinar e quindi di darvi il tempo intanto facciamo due chiacchiere vi dico le cose i dati tecnici quelli che di solito dice alessia e ve li dico io questa sera vi annuncio io tra l'altro ho un annuncio importantissimo però innanzitutto vi volevo ringraziare ciao alessia ecco alessia c'è eccoci qua però vi do il tempo intanto mi sono connessa un secondino prima così vi do il tempo di arrivare e io pian pianino vi dico già delle delle cose importanti chiedo scusa se mi sentite con una voce nasale terribile ma sono un po' raffreddata stasera potrei anche avere qualche momento un po' così nulla di pandemico ma fa un po' raffreddata e del resto ragazzi siamo in inverno allora passiamo un momento ai dati tecnici da oggi c'è c'è una grande 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 novità perché finalmente abbiamo le consulenze attive quindi abbiamo messo ho messo il link qui in fianco ci sono finalmente a grande richiesta le consulenze attive quindi che tipo di consulenza troverete troverete ciao Artemisia ciao allora io adesso purtroppo la chat di lato la vedo e non la vedo quindi portate pazienza io dopo dopo guardo rispondo allora innanzitutto troverete la mia con la mappa dei talenti tra un po' però ci sarà la possibilità di ordinare la mappa dei talenti anche scritta non cioè quelle automatizzate e la pulizia che faccio io io però metto poche disponibilità perché sto cercando di finire tutto il grande lavoro di organizzazione che c'è dietro perché c'è ancora tanto da finire dietro questo metodo adesso ve ne volevo parlare un attimo poi ci sono però tre importantissime consulenze che sono la consulenza di orientamento sul metodo che viene fatta da persone che sono state formate direttamente da me per darmi una mano quindi che cos'è la consulenza di orientamento sul metodo proprio quando siete in confusione non sapete come andare avanti avete la possibilità di chiedere noi vi annuncio già ma ve lo volevo dire dopo ma ve lo dico subito che stiamo rifacendo il sito però ve ne parlo subito dopo quindi lì avrete veramente già organizzato e reso molto più semplice più chiaro il metodo però in questo momento magari chi sta già seguendo ha bisogno di di a volte di avere un orientamento quindi questa volta ci sarà e ci sarà appunto la persona che vi risponde tra l'altro una è anche una persona che già spesso sentite quindi e poi ci sarà la nostra Alessia che invece vi aiuterà ad orientarvi se avete difficoltà in questo momento con il lavoro quindi cercare di capire come riproporsi come ricollocarsi Alessia vi aiuterà appunto in funzione di ragionando su quelli che sono i vostri talenti e del resto questo sito parla di talenti fondamentalmente e quindi vi aiuterà in questo senso infine ci sarà Paola che è quella persona alla quale rivolgersi nei momenti di sconforto quando sapete che ne so siete in quel momento buio in cui state lavorando ma vi sembra di non andare avanti Paola è la persona giusta da contattare per avere quella parola che serve a volte quella piccola spinta che a volte è necessaria proprio per riuscire a fare quel passino successivo e che che fatichiamo molto in certi frangenti a fare e Paola è una persona che che conosco da tantissimo e comunque ha un'esperienza veramente grande quindi siete con tutte e tre siete veramente nelle buone mani in buone mani quindi potete affidarvi tranquillamente dal punto di vista delle consulenze come vi stavo dicendo io ringrazio innanzitutto tutte quelle persone che nonostante ci siano costanti problemi tecnici nel recuperare recuperare quello che acquisto già nel fare magari determinati acquisti a volte anche nel recuperare le cose ci stanno seguendo lo stesso come ha detto qualcuno è perché il metodo funziona io vi ringrazio per darci questo tipo di feedback tra un po tra l'altro ci sarà nel nuovo sito ci sarà anche la possibilità di scriverle queste cose però mi rendo conto che a volte insomma è disturbante e io vi ringrazio noi abbiamo deciso alla fine di rifare il sito perché mettere questo è stato rimesso a posto su un sito che era stato fatto precedentemente da altre mani e chiaramente a volte a volte tamponare non è non è sempre la migliore delle soluzioni quindi abbiamo scelto di rifarlo totalmente dando veramente una fluidità diversa creando anche un orientamento diverso dove avrete anche degli strumenti diversi per poter andare avanti con il lavoro e quindi ci saranno ovviamente di tempi tecnici io vi chiedo di pazientare ancora di portare di avere fiducia che stiamo lavorando intanto adesso io e alessia questo domani anche il weekend ci troveremo per dare comunque maggiore chiarezza su determinate cose darvi ulteriori possibilità di approcciare al metodo in maniera più fluida però ci vorrà un po' per vedere il sito nuovo quindi intanto continuate come state facendo siete bravissimi io vi ringrazio infinitamente per la fiducia che ci state accordando e perché mi rendo conto che insomma però spero sia ben ripagata insomma che alla fine voi vediate in voi gli effetti perché non è che dovete darci fiducia perché io sono bella che cosa oggettiva tra l'altro però scherzo ovviamente però sono i risultati i risultati che ci sono tra di voi su questo sul discorso dei risultati che vedete siamo a un punto importante perché perché delle persone hanno iniziato a essere al secondo terzo mese di lavoro e cominciano ad andare nella sacca allora prendiamoci due minuti prima di parlare di famiglia l'argomento di questa sera perché volevo proprio dare un conforto a queste persone che sono in questo punto perché è importantissimo allora vi faccio un esempio pratico prima di parlare qualunque tipo di lavoro che sia energetico ma anche fisico c'è un punto io la chiamo di sacca dove dove sembra di tornare indietro ed è normale perché perché adesso ve lo spiego però vi faccio prima un esempio allora dovete sapere che io un po di anni fa non tantissimi ma neanche pochi oramai fortunatamente ho fatto feci un incidente casalingo tra l'altro ho girato mezzo mondo mi sono quasi ammazzata in casa mia e un incidente che purtroppo mi ha mi ha creato un danno permanente tra l'altro e mi si è insomma una gamba è abbastanza si è un po si è bloccata insomma quindi ci ho messo veramente molto tempo a cominciare a camminare e via di seguito e non molto tempo fa in realtà quando ho iniziato a quando ho fatto i primi video in workout di primo livello quando ho studiato in workout quindi non tanto durante le riprese quando studiato in workout di primo livello mi sono resa conto che il corpo era molto in squilibrio dal punto di vista fisico e che mi faceva male proprio fisicamente muovermi e lì quando mi sono resa conto di questa cosa ho detto no basta è arrivato il momento di prendere e di fare un lavoro serio di riabilitazione tra l'altro i workout di secondo livello li sto studiando con vera che è proprio con lei che mi stava aiutando a fare gli esercizi di riabilitazione vi dico tre mesi circa per due tre mesi ho pianto ci appiangevo proprio quando facevo gli esercizi perché perché fa male perché quando tu hai un corpo che si è adattato a una situazione sbagliata e non ci sente mica tanto che tu vuoi riportarlo nella situazione precedente quindi ti fa male ti fa male proprio non è che ti faccia cioè cerca proprio di convincerti a tornare indietro risiediti su quella divano perché io non voglio fare tutto questo sforzo qua questo è successo però sarà perché discipline spirituali da una vita e mezza mi hanno ovviamente allenata a non cedere a questo tipo di di energia sono riuscita ad andare avanti adesso mi sto sgonfiando sto dimagrendo ma soprattutto comincio finalmente a sentire la gamba sinistra che lavora e mi sento più stabile questo per dirvi che cosa non per raccontarvi gli affari miei che spero della quale insomma mi auguro che non me ne frega niente ne frega poco fra virgolette a chiama tra un po' non è quello il punto il punto è farvi capire un passaggio importante che prima di vedere i risultati di stabilità ci sono i primi mesi che sono i tremendi perché con soprattutto con gli esercizi energetici con allora dovete sapere che sia i codici che i workout e anche gli sblocchi energetici rimuovono le corazze che vi eravate costruiti sopra il dolore per permettere però di andare a ripulire perché sotto c'è della sabbietta se non c'è addirittura un po' di pus ok di ripulire per poi di poter ricostruire di conseguenza tornare ad avere quel potere personale quella forza che magari avete perso per strada ed è magari il motivo per cui le cose non vanno come dovrebbero ok però purtroppo i primi mesi e il terzo in particolar modo è il momento peggiore perché i primi due ci sono i momenti che e poi però su e poi giù e poi su e il terzo mese tracte e li prendi ecco allora in quel caso mi scrivete vi ho scritto a fianco cioè o a segreteria o a community non vi preoccupate che se devo dire una cosa eccessivamente personale non la metto nella community allora tendenzialmente io nella community su telegram avete link qui rispondo in generale allora quando come sto facendo adesso ok questa è una risposta generale però chiaro che se devo dare qualcosina per esempio succede che magari una persona è andata un po giù di morale o cose del genere io attraverso i fiori di bac sono anche puropata alla fine o delle erbe o quello che è posso un pochino non voglio tamponare perché io non voglio bloccare il lavoro però magari vi assesto un attimino per cui se vi succede questo scrivete che io rispondo magari non ci metto un giorno e mezzo come è successo stavolta però rispondo ok quindi e soprattutto però non cedete non mollate perché è il momento peggiore che poi però vi porta verso quella stabilità dove cominciate a vedere i risultati che iniziano a iniziate proprio a vedere quel momento in cui vedete quello che state come state agendo prima di agire vi fermate magari in tempo oppure agite sbagliate come come da meccanismo però vi rivedete subito quindi attenzione che sono i momenti più delicati però poi vi portano verso la stabilità perché quello che noi cerchiamo di fare è rendervi autonomi e stabili cioè con questo lavoro noi vorremmo portarvi ad avere un'energia sufficiente per riuscire a giocarvi tutte le situazioni della vita non solo quella che per la quale ci avete contattato adesso adesso magari avete una malinconia o un'ansia o qualcosa per una ragione particolare ma quello che noi vorremmo fare è darvi un metodo che vi aiuterà poi ad affrontare qualunque tipo di situazione dell'esistenza non quello che state vivendo adesso e basta questo è il risultato cioè questo è il metodo ok quindi volevo darvi questo questa pre parlarvi di questa cosina perché effettivamente mi rendo conto che qualcuno di voi comincia ad essere ormai al terzo mese di lavoro e adesso sono sono i momenti più importanti i workout i workout sono il lavoro che vi porta ad aumentare l'energia perché il workout va proprio a lavorare sull'energia muovendo il corpo quindi se riuscite a mettervi a fare qualche workout voi potete chiedere a chi li sta provando quanto i workout effettivamente lavorano sull'energia perché via via adesso quelli di primo livello lavorano sia sull'aumento dell'energia sia ancora sulla sullo sblocco tra un poco ci saranno quelli di secondo livello e li andremo a lavorare ulteriormente proprio per aumentare li andiamo come se lavorassimo nelle macchine della palestra proprio a fare il muscolo preciso energetico che sono le otto energie perché vi ricordo e adesso entriamo nel tema della serata perché adesso ci siamo già nel tema vi ricordo che che abbiamo otto energie questo questo metodo si basa su che cosa si basa su tutto uno studio qualcuno mi chiede se è numerologia qualcuno no in realtà ho fatto degli studi e se andate dentro il sito andate nella missione troverete un video dove spiego che cosa è successo e perché è nato questo metodo io volevo capire come succedevano le gli accadimenti come succedeva che accade perché accadeva qualcosa e ho capito che che cosa ho capito che gli accadimenti cioè quello che accade nelle nostre esistenze è un incrocio almeno di tre energie che sono tre tra le otto energie di base queste otto energie di base fanno una sorta di ciclo nella nella parte finale dove l'ultima energia incontra la prima lì nasce una nona energia che un'energia complessa quindi abbiamo otto energie di base nove personalità o attitudini ok e queste nove personalità o attitudini le trovo dove identificate dentro uno schema che adesso vi mostro qua ve l'ho disegnato precedentemente per farvi vedere che è quella la mappa dei talenti la mappa dei talenti che cosa ci racconta la mappa dei talenti ci racconta come siamo fatti e adesso cerco di farvelo capire in maniera un po spero abbastanza chiara noi ci muoviamo sempre costantemente su tre livelli di coscienza quindi nel momento io adesso che vi sto parlando sto parlando con il mio mentale ovviamente perché sto usando ovviamente il mentale in maniera preponderante però sto usando anche il mio emotivo e c'è una parte istintiva che fa sì che io nel frattempo stia per dire se io in questo momento avessi paura di essere qui davanti a voi cosa che onestamente la paura dell'essere davanti alle telecamere per esempio è un istintivo perché la paura è molto istintiva per esempio faccio un esempio di oppure che ne so in questo momento ecco sono un po raffreddata quindi la spossatezza la sensazione di calo energetico di spossatezza questa è una delle componenti che questa sera farà sì che io che il risultato di quello che vi darò sarà in un modo o sarà in un altro proprio perché il mio istintivo questa sera sarebbe vorrebbe mi vorrebbe nel divano il mio istintivo non mi vorrebbe qui a parlare con voi ecco questo è un bello esempio sto usando il mio mentale è qui perché ho un impegno insieme a voi cioè con voi avevamo una data e un orario in cui io dovevo essere qui quindi il mio mentale ha fatto sì che io sia qui il mio emotivo lo vuole effettivamente per cui caldeggia questa cosa però allo stesso tempo essendoci l'istintivo che tira molto indietro l'emotivo è un po scarico rispetto magari altre volte ecco che il risultato per esempio della serata non è non è come altre volte perché perché ci sono si sono interfacciate delle situazioni che hanno creato una diversità rispetto a uno stato fra virgolette ottimale allo stesso tempo io magari lavorando sulla mia energia perché prima di mettermi a fare questa cosa dove ho lavorato ovviamente sull'istintivo che era quello che tirava più indietro e ho cercato di portare aumentare un pelino l'energia in maniera tale che mi possa sostenere per questo periodo quindi come vedete se una persona è cosciente di come funziona e del fatto che non basta volere una cosa ma che ci sono tre parti di noi che lavorano e concorrono in una sempre in qualunque momento ecco che voi diventate coscienti e anche di fronte alle difficoltà avete la possibilità di utilizzare delle risorse io poco prima ho aumentato usca il fuoco nella parte istintiva perché so come farlo ovviamente e di conseguenza sono qua che riesco comunque a parlare riesco comunque a fare quello che devo fare questo è questo quello che vi vogliamo portare a fare più in pianino quello di essere coscienti nel momento in cui sapete che ne so magari state andando un colloquio del lavoro e nell'istintivo vi parte la paura e nel mentale magari vi parte il blocco ecco che voi potete lavorare per esempio se abbiamo la paura nell'istintivo quindi conseguenza mi parte una issa istintiva ok ci posso mettere un georia quindi vado a aumentare l'energia nell'istintivo che è quello che fate con i codici attenzione quando voi guardate i codici fate esattamente queste cose qui state inserendo delle delle informazioni ok quindi voi state già mettendo delle informazioni dentro per cui aumentate una cosa ne diminuite un'altra in maniera tale da poter affrontare quella cosa lì con delle risorse diverse qualcuno dirà io però non riesco bene a capire perché in realtà fa emergere delle risorse che voi avete già dentro perché nascete sempre con tutto dentro però dove stanno le vostre risorse e soprattutto le vostre sono come le mie no assolutamente no e infatti questo è il punto ed è la diversità da tante altre possibilità che avete di lavoro su di voi perché perché questa è una mappa dei talenti dove adesso qui magari voi non riuscite a leggere bene noi abbiamo già fatto il karma il karma ce l'abbiamo qua l'abbiamo fatto il mese scorso oggi andiamo a lavorare la famiglia e a capire di che cosa si tratta quando parliamo di famiglia benissimo allora la cosa importante da capire è che la mappa cioè la posizione di queste di questi step di queste prove prove che la di fronte alla quale la famiglia cioè la la vita ci mette sono uguali per tutti perché tutti quanti abbiamo 12 prove una chiave da aprire tutti ce l'abbiamo e queste prove si sviluppano nei tre livelli di coscienza ok e all'interno cioè nei tre livelli di coscienza appunto e abbiamo le stesse prove da affrontare ma ma non abbiamo la stessa combinazione di energie quindi che cosa significa significa che io potrei avere per esempio dato che voi avrete sicuramente se mi state seguendo se non mi seguite fate già adesso mettetevi a fare la somma di tutti i numeri della vostra data di nascita tutti giorno mese anno tutto 24 2 più 4 1 0 1 e tutto il resto della data ok alla fine se vi viene un numero doppio lo sommatevi finché vi viene un numero da 1 a 9 quando avete trovato questo numero da 1 a 9 lì ci sarà la vostra vi dice già la vostra missione che è questo punto qua ok o anche la vostra attitudine il vostro talento quello che dovete sviluppare ma lo dovete sviluppare quando e come lo lo svilupperete riuscendo a sbloccare tutte queste cose qua quindi dal karma che qua dal karma dovrete sbloccare la famiglia l'ego il punto debole il bisogno dell'eredità materna il maestro ok la società il riconoscimento il punto di forza l'eredità paterna tac missione e con la missione apriamo la chiave del cuore ok questo è quello che accade costantemente nei nostri cicli di vita per cui noi ogni ciclo vitale abbiamo un continuo risalire sopra quella quella pedana chiamiamola così chiamiamola pedana dove dovrò affrontare quel tema in realtà è un qualcosa di sovrapposto perché io giornalmente ho quasi sempre bella famiglia a meno che anche anche se siete se siete single e vivete da soli ma una famiglia di provenienza ce l'avete quindi comunque almeno il tema della famiglia tutti i giorni ce l'avete per quanto andrete a lavorare si presume si spera più che altro di questi tempi e di conseguenza avrete a che fare con il riconoscimento la società anche solo nel primo momento in cui uscite di casa ma anche con i vostri vicini avete il problema della società problema o comunque il karma ve lo trascinate dietro il maestro potrete non sapere che ce l'avete ma ce l'avete e via di seguito quindi in realtà tutti i giorni vengono vengono toccati e probabilmente tutti i punti solo che ci sono dei momenti della vostra vita dove alcuni punti sono più sollecitati di altri che cosa stiamo cercando di fare noi con il lavoro che stiamo portando avanti stiamo lavorando a due livelli stiamo lavorando sia sul piano verticale della nostra esistenza ovvero in questi 12 gradini più la chiave sia sul piano orizzontale che sono tutti gli eventi che ci arrivano per metterci allenarci per permetterci di allenarci e sbloccare questo tema quindi questa nostra mappa in maniera tale da arrivare a compiere la nostra missione quindi questo è una sorta di gioco ragazzi è come se steste giocando a un gioco a livelli è la stessa cosa ok quindi che cosa stiamo facendo noi stiamo vi stiamo insegnando mese per mese le regole del gioco di tutti i 12 gradini nonché vi diamo degli strumenti per allenarvi ad aumentare l'energia in maniera tale da riuscire ad affrontare le prove che vi arrivano nel piano orizzontale che sono gli incontri le cose che succedono questi benedetti accadimenti della quale mi sono sono anche sono anni che studio allora questa sera abbiamo iniziato a parlare abbiamo deciso di parlare di famiglia e sarà il tema che affronteremo nella masterclass di mercoledì prossimo quindi nella masterclass di mercoledì prossimo andremo a vedere che cosa come voi nel vostro personale modo vivete la famiglia perché come ho scritto in un articolo se voi avete dei fratelli voi molto probabilmente vi sarete accorti che vivete la famiglia in maniera molto diversa rispetto vostro fratello se non avete fratelli avrete sicuramente persone che conoscete che hanno fratelli e vedete come la stessa per cioè come un fratello descrive la sua famiglia o il rapporto con un genitore o l'altro con il fratello in maniera molto diversa rispetto all'altro fratello perché perché dipende dall'energia di base che avete qui come abbiamo visto l'altra volta nel karma il karma è determinato dall'energia di base che avete nel punto di karma quindi io non avrò lo stesso karma vostro voi non avrete lo stesso karma di qualcun altro avere la famiglia avere una un punto un'energia nella famiglia determinerà come voi ok vivete quella situazione familiare nonostante i genitori siano gli stessi anche i gemelli vivono diversamente la famiglia nonostante siano abbiano la stessa età quindi non si può dire sono stati educati magari in maniera diversa perché sono passati degli anni hanno capito delle cose i genitori no sono nati nello stesso giorno e di conseguenza sono cresciuti nello stesso ambiente con le stesse proprio vivendo le stesse cose eppure vedono e vivono la famiglia in maniera diversa riconoscere questo farà sì che voi comprendiate qual è il vostro preciso modo in cui vivete la famiglia ma in alcuni articoli che avete letto se li avete letto e spero che li abbiate letti che ho scritto e in alcuni passaggi che ho fatto su telegram io inserisco anche dei podcast avrete notato che ho parlato ho abbinato la famiglia all'amore perché perché indubbiamente come noi viviamo da come noi tendiamo a vivere la famiglia da lì nasce il nostro modo quello che noi desideriamo quell'aspettativa che noi abbiamo nei confronti dell'amore proprio da quel punto che noi abbiamo qui nella famiglia e saperlo è una grande cosa vi faccio vi faccio vedere anche una cosa la famiglia se vedete no ci sono due linee non so se se riuscite a vederlo bene mi auguro di sì se vedete ci sono due linee allora questa è la linea che divide l'istintivo dall'emotivo questa è la linea che divide l'emotivo dal mentale la famiglia e la società sono gli unici due punti che si trovano esattamente sopra la linea divisoria vuol dire che la famiglia è l'unico punto che va a influenzare sia l'istintivo che l'emotivo ok quindi influenza sia le nostre reazioni istintive di fronte agli eventi sia il nostro modo di vivere i nostri sentimenti e le nostre emozioni è il punto più forte tra l'altro perché proprio in quanto è a cavallo tra l'istintivo e l'emotivo è un emotivo istintuale quindi è proprio il modo più istintuale in cui viviamo le emozioni quello che ci deriva da questo da come noi viviamo questo rapporto familiare e vedrete com'è successo con il karma con quanta precisione vi descriverò il vostro modo e voi direte madonna mia è proprio così certo che è così è calcolato non è perché me lo sono inventata ieri mattina è proprio calcolato vi faccio vedere anche un'altra cosa questa questo punto appunto della famiglia va ad avere relazioni dirette voi non state ancora capendo bene tutti i passaggi adesso farò dei video tutorial che metterò su youtube proprio per darvi modo di comprendere meglio come si ragiona con l'albero cioè con questa mappa dei talenti a se vedete come sono come è disposta la mappa dei talenti corrisponde anche alle letture genealogiche che mi vedete fare a volte quando faccio le interattive sì in effetti se io dico determinate cose le dico con così tanta profondità è perché l'ho sviluppata sopra questa mappa per cui io so bene che cosa sta accadendo e lo so è come capite infatti vela quest'anno dovrei riuscire finalmente a fare il corso e vi insegnerò a fare questo tipo di lettura tornando a noi la famiglia ha a che fare direttamente cioè quindi a è direttamente proporzionale a karma il punto debole l'ego della quale parleremo il mese prossimo il bisogno il maestro e il cuore che cosa significa la famiglia lo sappiamo che chi ha fatto con me o con chiunque altro qualunque tipo di disciplina spirituale sa che la famiglia è karmica per proprio per antonomasia quindi chiaro che è direttamente proporzionale al karma è ovvio ma determina anche il nostro ego che cosa vuol dire il nostro ego come noi ci vediamo perché in funzione di come ci ha visto o noi abbiamo percepito che siamo visti siamo stati visti attenzione perché tra come ci hanno visto e come noi abbiamo percepito di essere stati visti in famiglia c'è una differenza ok quindi come noi abbiamo percepito di essere visti in famiglia si sviluppa l'ego della quale parleremo la prossima volta che ha molto a che fare anche con il nostro bisogno di essere riconosciuti anche se poi lo troveremo proprio come punto preciso nella mappa dei talenti la famiglia ha anche molto a che fare con il bisogno chiaramente si sviluppa direttamente dalla famiglia il nostro bisogno questo è chiaro ma vedremo poi che anche il bisogno si ha anche altri tipi di interazioni lo vedremo quando lo faremo poi la famiglia ha a che fare con il nostro punto debole perché nella famiglia è il primo posto dove io mi scontro con il mio punto debole e anche lì ci sarà tutto un come stiamo facendo per tutti gli altri punti ne parleremo diffusamente perché venite al punto debole scoprirete come se capite qual è il vostro è una delle chiavi tremende perché tremende ve l'assicuro nel senso che scoprirlo lascia sempre un po così però è una chiave che vi fa veramente girare il vostro modo di vedere le cose sempre la famiglia direttamente proporzionale vuol dire che il rapporto che voi avete costruito con la vostra famiglia come voi avete vissuto la famiglia ha fatto sì che siate in collegamento o meno con il vostro maestro interiore perché con la famiglia perché la famiglia ha a che fare con il vostro maestro interiore perché dipende se la famiglia vi ha educati ad ascoltarvi e affidarvi di voi stessi oppure no nonché nonché se la famiglia ha magari la tendenza a prendere come sottogamba determinate intuizioni ecco che potreste non essere particolarmente in contatto con il maestro interiore perché oppure oppure quando famiglie troppo che tendono a proteggere troppo i figli quelli col maestro interiore non ci avranno un gran che a che fare perché non sono sostituiscono al proprio maestro interiore il genitore quindi in realtà il ruolo del genitore è essenziale però è carico di io so che c'è tantissime ci sono tantissime persone poi se per caso fate costellazioni familiari sicuramente ma tanta tanta gente sento che vi parla di com'è andata se il genitore si è comportato così se il genitore si è comportato colabia vi ha determinato questo questo quell'altro e via di seguito noi onestamente lavoriamo in maniera diversa non perché sia meglio o peggio perché va bene anche vedere tutto questo noi lavoriamo in maniera diversa guardiamo come voi leggete il rapporto con la famiglia ci concentriamo su di voi e ci concentriamo su quell'energia lì perché il fatto che voi qui abbiate che ne so georia piuttosto che beatrix piuttosto che peonia cambia completamente non solo il modo in cui voi la vivete cambia il modo in cui voi vivete l'amore cambia il modo in cui vi rapportate con tutte queste cose che abbiamo appena detto e ci siamo non abbiamo ancora parlato del cuore che è la chiave e la famiglia è sotto la chiave cambia però anche le risorse che potete utilizzare per trasformare questo vostro rapporto con la famiglia quindi a prescindere da quanto bravi o non bravi sono stati i vostri genitori nel darvi ciò di cui avevate bisogno noi andremo comunque a capire quali chiavi io posso usare quali risorse posso usare come quella mia attitudine ha fatto sì che io ho subito la famiglia in quel modo io posso anche trasformare quel mio rapporto con la famiglia attraverso quel proprio quell'attitudine lì che vi dirò alla masterclass quindi qui trovate il link per iscrivervi attenzione abbiamo fatto la scusate lo sconto di san valentino quindi fino al mi pare il 21 c'è ancora la possibilità di acquistare la masterclass con lo sconto vi conviene farlo già stasera così l'avete eliminato il problema e siete a posto se non potete esserci mercoledì prossimo non c'è problema sapete che vi verrà data la possibilità di vederlo senza nessun problema quindi e anche lì se non arriva subito portate pazienza stiamo migliorando in tutti i sensi abbiamo questo stiamo rodando le parti tecniche adesso miglioriamo anche questa cosa abbiamo trovato il modo di migliorarlo ci vorrà un mesetto e poi miglioriamo anche questo quindi tornando al discorso che stavamo facendo andremo a vedere qual è il vostro personale modo di leggere la vostra famiglia ma anche di conseguenza di vivere il karma anche di conseguenza di vivere il punto debole anche di conseguenza di vivere l'ego il bisogno il maestro e il vostro cuore sarà aperto semi chiuso chiuso che ne so io in funzione di questa cosa ma ma scopriremo quale attitudine dobbiamo utilizzare per allenare questo punto vi faccio notare anche una cosa se avete fatto in workout mi avrete sentito parlare un miliardo di volte del punto di stabilità il punto di stabilità è un punto importantissimo che appunto quello che vi fa sentire radicati sappiate che il punto di stabilità è questo cioè è l'ego praticamente ma sopra abbiamo la famiglia quindi anche lì se noi lavoriamo lavoriamo il punto della il punto della famiglia stiamo aumentando la nostra stabilità quindi per chiudere un po il discorso che stiamo facendo la famiglia determina veramente tantissime tantissimo tanti settori della nostra vita come noi viviamo tanti settori della nostra vita in funzione di come quindi lasceremo stare tutti quei discorsi della ma tua mamma da piccolo ti diceva che non sapevi fare niente mamma che potreste aver già fatto se non l'avete fatto potrebbe avere senso farlo anzi potrebbe avere senso farlo ma allo stesso tempo fatto un po poi io sono per dire ok perfetto abbiamo capito il problema perché va bene vedere il problema ma per me ci deve essere sempre anche la soluzione se no che stiamo a girare sempre stedita in questo modo io voglio anche la soluzione la soluzione qual è imparare a riconoscere il mio personale modo di vivere quella roba lì in maniera tale che quando l'ho capito mi posso vedere quando sto agendo in quel modo lì usare i lavori energetici che stiamo facendo per aumentare la mia capacità di risposta perché attenzione se io qui ho un punto che ne so facciamo un esempio pratico facciamo finta che nel punto famiglia io ho issa quindi avrò vissuto in maniera un po dipendente la famiglia ovvio che il mio obiettivo sarà quello di diventare autonomo chiaro ok adesso ve ne dico uno non corrisponde attenzione che non corrisponde però al vostro numero se anche avete trovato il numero appunto della vostra personalità da adesso i punti non si trovano più attraverso quel numero lì ci sono altri conti che facciamo quindi poniamo il caso che lì avete issa benissimo che cosa dovrete fare dovrete chiaramente aumentare la vostra capacità il vostro potere personale perché finché tra l'altro issa in famiglia significa veramente molto probabilmente legato a un karma di non ancora non arrivo ancora non radicamento non mi sento ancora in questo in questa terra in famiglia tra l'altro potreste essere state persone che sono state estremamente coccolate nel senso un po' de responsabilizzate quindi con un de responsabilità potreste avere continuamente problematiche con la responsabilità quindi trovarvi che ne so con fidanzati fidanzate che vi accusano di non essere responsabili non essere in grado di portare avanti relazioni piuttosto che nel lavoro non riusci non riuscire mai a trovare una vera autonomia economica per esempio e tutte queste dinamiche qui ok ma avere issa lì significa sapere che io lì dovrò invece andare a lavorare con una jasmine che è la sua contrapposizione quindi anche avere questo tipo di di capacità di vedere le cose quando per esempio mi trovo sollecitato in quel punto e pian pianino scopriremo anche come capire che sono sollecitato in quel punto quando capirò che sono sollecitato in quel punto lì ecco che io posso mi ricordo magari qual è la l'attitudine perché di attitudine stiamo parlando che devo tirare fuori come faccio a tirarla fuori se magari non sono mai stato abituato a farlo allenandomi energeticamente perché questo è il sistema cioè la bacchettina magica quella che fa così è finito tutto non esiste come in qualunque cosa c'è un allenamento ma noi abbiamo un inizio e una fine sono 13 gradini non c'è il 14esimo sono 13 fatti i 13 gradini avete tutte le informazioni per sapere come funzionare e per imparare ad allenarvi avrete tra l'altro avete un workout avete codice a vostra disposizione per allenarvi quindi avete tutto ok poi va bene la vita sarà sempre un movimento in su in giù delle problematiche ma se voi sapete come funzionate sapete anche come rispondere ecco che non ci sono cioè anche se magari ci sono dei periodi perché i cicli sono di costruzione sono anche di distruzione quindi metti che avessete all'inizio di un ciclo di distruzione con un tot di anni davanti dove le cose non vanno come vorreste che andassero ma se voi siete allenati prima di arrivare a quel ciclo di distruzione magari non si distrugge tutto e voi rimanete in piedi cioè ecco che cambia il ciclo di distruzione arriva lo stesso perché è normale non vuol dire che debba essere spazzata via la vostra vita ma vuol dire che magari in quel periodo dovete eliminare delle cose che avete delle esperienze che avete già fatto e quindi ne dovete passare a delle altre bene però un conto è viverlo per con l'universo che arriva e ve lo ve lo sbatte in testa e voi cadete per terra e finita lì un conto è che l'universo arriva vi mette davanti la prova e voi sapete come affrontarla cambia tutto tutto questo è quello che stiamo vi stiamo proponendo con la family io vi invito a iscrivervi già stasera alla masterclass che faremo mercoledì prossimo sappiate che se entrate in telegram vi manderemo un sondaggio per capire se vi è piaciuto di più fare la masterclass scusatemi il webinar attraverso zoom o fare come abbiamo fatto questa sera con la diretta su facebook ovviamente questo implica che c'è meno lavorio nel doversi poi loggare via di seguito ma allo stesso tempo non c'è la possibilità di fare le domande quello che magari facevamo con la male il webinar quindi vi chiederemo se vi piace o non vi piace vi invito anche a iscrivervi alla newsletter perché con la newsletter vi arrivano tipo sarete informati delle varie novità che porteremo avanti soprattutto per chi ha voglia di vedermi dal vivo tra un po ci sarà la possibilità quindi iscrivetevi alla newsletter del nostro sito io non posso chiedervi se avete domande perché appunto non c'è la possibilità di farlo spero di avervi incuriosito a sufficienza per venire alla masterclass di mercoledì prossimo e vi ringrazio e vi aspetto ai prossimi eventi un abbraccio grande ciao 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 ciao